E' durato tre ore l'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi tra una delegazione governativa e le sigle sindacali per parlare delle sorti dell'ex Silva di Taranto. Quella del governo ci sembra una resa e il commento di Francesco Rizzo e Sascha Colauti dell'USB questo attendismo getta l'azienda nel baratro. Abbiamo chiesto al governo di assumere il controllo e di cacciare Arcelor Mittal. Per i sindacalisti l'esordio del sottosegretario Mantovano è emblematico della situazione. Il governo si de-responsabilizza dicendo che è una situazione che hanno ereditato e che possono solo attendere l'esito del confronto con Arcelor Mittal. A quanto si apprende dai sindacati quindi l'unica proposta emersa dal governo è quella di un rinvio della discussione al 29 dicembre senza alcuna indicazione su cosa fare. La data indicata dovrebbe seguire l'ennesimo aggiornamento dell'Assemblea dei Socii di Acciaiere d'Italia che però il governo stesso non considererebbe risolutiva. Arrestato nelle prime ore del mattino dello scorso 18 dicembre dai carabinieri di Manduria un uomo di 38 anni responsabile di aver rapinato più volte una persona anziana. L'indagine è scaturita dalla denuncia del 76enne alla fine dello scorso mese di novembre. L'uomo aveva infatti raccontato ai militari dell'arma di essere rimasto vittima di due diverse rapine nella sua abitazione. Il 38enne aveva divelto con la forza alla porta di casa approfittando del fatto che l'uomo vivesse da solo e si era poi avvicinato al suo letto chiedendogli del denaro e minacciandolo di ucciderlo. Il pensionato entrambe le volte aveva consegnato delle piccole somme di denaro per poi osservare il ragazzo scappare via. I carabinieri temendo che potessero verificarsi ulteriori rapine hanno organizzato un servizio di osservazione presso la casa della vittima, riuscendo così a cogliere in flagrante il 38enne. Con lui a fare da complice anche un ragazzo di 19 anni per il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un minorenne che è stato collocato in comunità. Proseguono i controlli della polizia di Stato per contrastare la vendita illegale di esplosivi confezionati artigianalmente pericolosi per la sicurezza e la salute dei consumatori. I falchi della squadra mobile hanno concentrato i sospetti su un fruttivendolo ambulante di 30 anni, scoprendo successivamente che aveva avviato una fiorente attività di vendita illegale di esplosivi artigianali, le cui compravendite avvenivano attraverso le comuni chat di messaggistica istantanea. Nell'angusto scantinato utilizzato dall'uomo, i poliziotti hanno rinvenuto 300 manufatti esplosivi artigianali privi di qualsivoglia etichettatura. Il trentenne è stato arrestato e posto in regime di arresti domiciliari, mentre il materiale sequestrato è stato messo in sicurezza dal team artificieri che provvederà alla sua distruzione. Negli ultimi giorni le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno eseguito presso alcune aziende ed esercizi commerciali del capologo ionico e della provincia controlli mirati a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi eseguiti dai finanzieri del gruppo di Taranto e delle compagnie di Martina Franca in Manduria hanno permesso di sequestrare oltre 85.000 prodotti di vario genere, tra cui casalinghi, materiale di cancelleria, ferramenta, ma anche profumi, giocattoli e bigiotteria, tutti privi delle informazioni previste dal codice del consumo che tutela i consumatori. Tra i prodotti sottoposti a sequestro anche 3.000 articoli in plastica, soprattutto piatti e posate, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo moca, che indica i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Al termine dei controlli sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari delle serie vendite interessate dall'intervento delle fiamme gialle. Si è concluso questa mattina con il seminario intitolato Cantiere intelligente un importante percorso formativo di istruzione e formazione tecnica superiore, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del PNRR per la qualifica di tecnico di organizzazione e gestione del Cantiere Dile. Un percorso rivolto a giovani diplomati che ha riguardato 11 donne e uomini organizzato da Formedil CPT Taranto in collaborazione con il Politecnico di Bari, con l'Istituto Pacinotti del Capoluogo Ionico e Ance Taranto. Il corso per tecnici di cantiere, corso IFTS, finanziato dalla Regione Puglia, si è concluso il 3 novembre e ha visto la partecipazione di 11 tra ragazze e ragazzi, hanno conseguito questa qualificazione e questa specializzazione. Il corso è durato 800 ore, 400 delle quali sono state fatte in alternanza, in realtà in stage presso le aziende e anche la parte teorica di 400 ore ha avuto una componente molto importante laboratoriale e operativa. Questi sono stati gli elementi di competitività del corso che hanno consentito un elevato successo dell'iniziativa che ci porta ad avere anche dei ragazzi che appena terminato il percorso hanno già trovato occupazione. Non si arresta l'ondata di affetto e solidarietà che circonda l'unità di onquematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa mattina i piccoli pazienti in cura nel reparto, guidato dal dottor Valerio Cecinati, hanno ricevuto la bella sorpresa organizzata dall'associazione Simba della visita di una rappresentanza dei giocatori e del mister della squadra di calcio del Taranto, che hanno donato ai piccoli tifosi tanti gadget della squadra rosso-blu, nonché una maglia speciale con numero 10, al direttore del reparto. La giornata è stata aglietata anche dall'installazione nella sala del dei ospital e dall'accensione di un acquario, donato dall'associazione SD Olimpia, grazie ai fondi raccolti in occasione dell'iniziativa Babbo Natale Vien dal Mare, svoltasi lo scorso 17 dicembre e giunta quest'anno alla sua quinta edizione. L'acquario è anche un simbolo perché siamo una città di mare e è sicuramente un bel regalo per i nostri bambini, dà anche un senso di libertà e anche di possibilità di sconfiggere le malattie dei nostri bambini, quindi volevo ringraziare veramente di cuore per questo gesto perché oltre che essere bello è anche un messaggio di speranza proprio per il periodo di Natale. È un momento molto bello, noi siamo molto felici di essere qui perché siamo non disponibili, secondo me è un fatto doveroso e quindi abbiamo accolto questo invito essendo felici, cercando di portare un dono, ma soprattutto un sorriso a questi bimbi a cui auguriamo un prestissimo rientro a casa. Grande successo dell'acquero Chiloiro al terzo trofeo, città di Gioia del Colle, andato in scena ieri al Palacapurso, un evento che ha unito il professionismo con la seconda vittoria in carriera di Andrea Ottomano e il dilettantismo della formazione ionica, già campione d'Italia con un bilancio di nove vittorie, un pari e una sconfitta. Un match combattuto, quello tra il pugile Tarantino e il maltese Giannis Magro, caratterizzato più da un sano agonismo che da una tecnica limpida. Ottomano ha attraversato la linea della sua box in bilico tra freddezza e nervosismo di fronte ad un avversario spigoloso. I giudici hanno poi decretato ai punti la vittoria del boxer dell'acquero Chiloiro. Grande successo per il Christmas Party della Federazione Italiana Pallavolo Tarant, oltre 300 bambini e ben 16 società del territorio hanno partecipato al Palamazola ad una vera e propria festa del volley, realizzata in collaborazione con i Lions Club Taranto Aragonese e la gioiella Prisma Taranto. Abbiamo ascoltato il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Taranto, Agostino Greco, il presidente del Lions Club Taranto Aragonese, Angelo D'Andria, e il capitano della gioiella Prisma Taranto, Aimone Alletti. Una giornata bellissima, piena di sorrisi, infatti ci tengo tanto a ringraziare le società che in una giornata piena di eventi extracurriculari, di influenze, di qualsiasi cosa sono stati qui presenti, come potete sentire, con tantissimi piccoli atleti e atlete, insomma siamo contenti, stanchi ma davvero contenti. Sì, questo evento è stato voluto con la Federazione del Volley, il Coni e Sport e Salute per fare un service in favore dei ragazzi e nel contempo anche in favore di due parrocchie Caritas Diocesane del Santissimo Crocifisso e San Pio X. Sì, questi sono momenti bellissimi anche per noi perché ci fanno tornare dove tutto ebbe inizio, quindi noi siamo, l'ho detto prima, siamo un po' alla punta dell'iceberg di un movimento enorme e oggi rappresentato da tutti questi ragazzini, bambini che sono qui in campo a giocare e a divertirsi. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.